Il comune di Barletta si è rifiutato di rimuovere le salme di due estranei da una cappella privata, perciò il TAR ha censurato il comportamento dell'amministrazione, a farlo sapere è illegale della famiglia, l'avvocato Marco Palieri. Tutto inizia nel 1956, quando il comune di Barletta concedè ad un cittadino il terreno necessario per costruire una cappella all'interno del cimitero monumentale. Nell'atto di concessione si precisava che è fatto assoluto divieto di tumulare persone estranei al nucleo familiare. Dopo la scoperta delle due salme, il proprietario della cappella ha presentato istanza di accesso agli atti per scoprire che il comune ha consentito la tumulazione delle salme sulla scorta di due autorizzazioni, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, con firma di alcuni suoi familiari, firme che secondo la famiglia sarebbero state falsificate. Il comune inoltre non possiede più i documenti originali delle dichiarazioni sostitutive, ma soltanto le fotocopie. Va dunque assicurato, da parte del comune si legge in sentenza, il progetto contenuto nell'atto di concessione che si è fatto rispettare l'assoluto divieto di tumulare persone estranei alla famiglia. Non è ammissibile, scrivono i giudici, il persistente rifiuto dell'amministrazione della città di Barletta ad attivarsi nell'esplicazione dei propri poteri di polizia mortuaria, di maniale e di autototela esecutiva, che impongono di vigilare sull'uso delle cappelle private o di famiglia e di reprimere eventuali utilizzi di formi delle concessioni, a fronte di segnalazione o di denunce di privati.